Eccoci qui come state, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, insomma periodo negativo, so sta che dopo che hai perso è sicuramente negativa, però c'è un top 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 come dico io nel Milan e questo signori diciamolo, prendiamoci due minuti di un bel pensiero e di leggerezza positiva è Christian Pulisic perché signori è passato inosservato il fatto che lui abbia fatto un altro gol, tra l'altro molto bello, un cross di Teo su secondo palo e lui ci mette il piede e fa un gol davvero straordinario, qualcuno ha detto voleva rimettere dentro la palla, no per me voleva proprio tirare in porta, lo ha fatto e ragazzi siamo a una stagione in cui lui ha fatto fin qui nove partite, sette in Serie A, due in Champions tra l'altro neanche tutte intere, con la bellezza di sei reti e due assist, in nove gare ha partecipato a otto reti, qualcosa di clamoroso per un giocatore che lo scorso anno è stato il migliore del Milan a mio avviso e quest'anno fin qui è il migliore del Milan, giocatore che c'è sempre, quando non c'è comunque si fa trovare pronto sotto porta, in campionato, quattro gol nelle ultime quattro partite più un assist, davvero un giocatore straordinario che è finito già nel mirino di qualche rumor, non dico di qualche squadra ma di qualche rumor di mercato, si prova del Liverpool nelle scorse settimane, è un giocatore che a me piace tantissimo per applicazione, impegno e pensate che lui è anche rigorista, pensate se gli avessero lasciato quei due calci di rigore, magari oggi sarebbe a otto gol, pensate e con il Milan che magari avrebbe sicuramente più punti, non magari sicuramente, davvero in un momento complicato, lui è un raggio di sole luminosissimo che scalda e probabilmente ci vorrebbero 11 Pulisic anche per applicazione e impegno, oltre che per rendimento sotto porta, ditemi che ne pensate, come dico io, top top top, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, andrà a Longoni Calcio, grazie per l'attenzione.